Con il 7 e l'8 settembre si chiude l'estate termolese quanto ai 20. Due gli appuntamenti che stando alle previsioni portiranno in città numerose presenze. Domenica ci sarà la manifestazione sportiva Triathlon Sprint Città di Termoli alla sua seconda edizione grazie anche al contributo dell'Avis. Circa 35 le società iscritte come spiegato da Filippo Mancini dell'associazione Termoli Triathlon con la partecipazione di 250 atleti da tutta Italia che si misureranno in una gara con tre sport diversi. Si partirà alle 10.30 con 750 metri di nuoto in mare davanti all'Idole Dune sul lungomare nord, quindi 20 chilometri in bici in un percorso che arriverà fino a Contrada Fucilieri infine 5 chilometri di corsa sulla pista ciclabile. L'intero weekend sabato e domenica invece sarà dedicato al motoraduno nazionale organizzato dall'associazione Road Eaters con un punto di ritrovo sempre sul lungomare nord di fronte all'Ido Bluetooth una manifestazione che ha anche occasione per conoscere e valorizzare il territorio e infatti è prevista per sabato la visita a un olificio e al borgo antico per domenica invece quella a una cantina a vitivinicola. Sabato sera street food per tutti sono attesi appassionati delle due ruote da tutta Italia intanto per l'amministrazione Roberti e per l'assessore alla cultura e al turismo Michele Barile il bilancio dell'estate termolese è positivo. Tutto fatto assolutamente in corsa e penso che come primo anno possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti gli eventi che abbiamo proposto hanno riscosso tutti quanti un notevole successo anche le manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio sono state tutte assolutamente apprezzate la stagione teatrale del Teatro Verde ha riscosso anche quella un notevole successo quindi io penso che il bilancio sia assolutamente positivo.